Questa sera si è tenuta l'Assemblea per il rinnovo delle cariche di sincronie, sono stato eletto presidente e quindi avrò il ruolo di rappresentare e coordinare questo gruppo di giovani che ha l'obiettivo innanzitutto di formarsi e di creare contenuti sui temi dell'attualità, in particolare sull'antimafia sociale e l'obiettivo anche di incidere in un qualche modo nell'ambito di riferimento che è quello del territorio nuovarese. Dopo tre anni di attività rinnoviamo il nostro impegno ancora nel sulco di Libera e ancora come dal primo giorno dedicato alla memoria di Larry Alpi, Miran Crovatin, due giornalisti uccisi vent'anni fa a Mogadiscio perché troppo bravi a fare il loro mestiere. Grazie per la visione! E quindi auguri a me e auguri a sincronie!